Ciao, sono Daniele Fusca, sono tecnico del reparto Customer Service, fornisco assistenza tecnica telefonica post vendita a installatori e privati. Le chiamate arrivano da tutto il territorio nazionale e all'occorrenza do assistenza anche internazionale. Mi sono diplomato all'Istituto Tecnico ITS Vipeano a Torino, indirizzo di studi perito informatico. Per quanto riguarda il mio istituto tecnico ed eventuali aziende che seguono comunque la parte informatica per quanto riguarda il titolo di studi, secondo me si dovrebbe lavorare un po' di più da parte di chi sta ai vertici, dovrebbero creare quantomeno dei percorsi dedicati a questi ragazzi che escono dalla scuola e non conoscono nessuno, non conoscono nessuno, non sanno cosa fare. Il solo curriculum che è vuoto non aiuta, quindi la scuola dovrebbe mettersi in prima persona, interlocuare con le aziende del settore per cercare di spingere i ragazzi che escono a quel tipo di diploma. Quello che ti dà la scuola e di giusto che ti dia sono le basi tecniche. Non ti aiuta, la scuola non instilla la curiosità nella mente dello studente nel ricercare, nel migliorare sempre il proprio bagaglio personale. Questo chiaramente è caratteriale, quindi c'è chi ne ha un po' di più, c'è chi ne ha un po' di meno. La scuola dovrebbe spingere i ragazzi ad essere i più curiosi. L'importante è non perdere mai l'entusiasmo in quello che si fa, che sia il lavoro, la vita personale perché aiuta, aiuta molto e poi sfruttare, diciamo sfruttare tra virgolette chi ne sa più di noi facendo tante domande, mettendosi anche a disposizione e facendo sacrificio per accumulare informazioni e arricchire il proprio bagaglio personale.